Questa mattina a Roma è stata firmata l'intesa per l'area di crisi complessa di Savone e in particolare l'accordo di programma sul progetto di riconversione industriale delle aree. Lo ha reso noto l'assessore regionale allo sviluppo economico Edoardo Rixi che ha siglato l'accordo proprio nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Una volta pubblicato il bando, l'auspicio è che sia importante la partecipazione da parte di soggetti interessati all'insediamento nelle aree del Savonese e della Val Bormida. Oltre che da Rixi il documento è stato firmato dal Vice Ministro Teresa Melanova, dalla provincia di Savone e dall'autorità di sistema portuale Tirreno Occidentale. Le manifestazioni di interesse pervenute attraverso Invitalia sono servite esclusivamente a dare un'indicazione su potenziali investitori e su eventuali progetti, ma anche chi ha risposto dovrà comunque presentare il progetto partecipando al prossimo bando. La Regione metterà in campo attraverso bandi propri 25 milioni di euro tra risorse, fondi europei e contratti di localizzazione, oltre a 20 milioni istanziati dal Governo. Inoltre 9 milioni di euro saranno anticipati dall'autorità di sistema portuale per opere infrastrutturali.